erano otto e stavamo il signore mi preferivo e fecimo quello che ho fatto a me casa per tutti ho comprato il locale e piano piano un debito e fecimo la casa cinque piani e stanno tutti insieme che mi hanno fatto usare con un piano l'uomo e stavamo qui sotto ma con debito e fecimo quello che potevamo fare cominciamo a 70 ancora c'è lavoro da fatto io ero 60 qua e da già ero ma c'era un puzzo qua dentro e l'acqua è andata e si imbavorava si imbavorava e piantavano i cristiani prima che era senza pioggia era che conduttano poi il cavallero fece pioggia se si è seduto come a questo qua questo tubo questo tubo era uno tubo così e lui girava girava così e imbavorava tutta la zona la fiumara la fiumara la fiumara era era tutta costavata era che lavoravamo i motocarri nascivamo a terra alluvavamo dall'appartamento quando facevano le case ora è tutta tutta conveggiata di cannito una volta trasiglato i giardini nella fiumara in tre case poi fuggono fuggono di mura il tallato ma però l'hanno fatto tutti il foro cemento e non materiale della fiumara cavallo questo è questo è un po' che dice cantate ma non però fa poco pochissimo pochissimo lemone portovalle bacamorti fighe una pecora una crapa una ru eh piantini che facciamo con la semenza con quella molingiana senza niente non viene niente non si fa niente ci vuole ci vuole il lavoro quello che non aveva aveva i prunari che non ti fanno aveva i prunari aveva la parara gli equipira aveva da fare molingiani qua sopra andava un altro dovevano qua sopra dovevano fare carazzare poi andava chiesto dovevano qualche pere che venivano il marino barallà sapete qualche bacamorti si spremano a giubbio sopra è tutta tutta coperta di sopale spine quando si incriva si scassava e si imbavorava un pezzo e poi proprio che si imbacantava si tornava a cinchire un'altra volta che ci oliva 12 ore mi si incriva e una torre un topo la mandava direttamente che 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 che